Ciao Daily Wave! Sergio... Non vuoi volare Sergio? Beh dai... Alessante... Per la prima volta ti dirò... E' bello... E' normale... Siamo sul paese di Norma... stiamo sopra la parte quanto tempo fai questa cosa? da quanto volo? in anni? si, ma che indega tu si preferisci? io volo da 20 anni poi imparamentino poi postista lo faccio da 8 ma diciamo lo faccio anche a 30 anni ho fatto anche semplice paracadutismo no, 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 paracadutismo in realtà l'avrei fatto con i tuzieri mi hanno dato un po' di rinunità non ho fatto una domanda ma mi è arrivata a cercare i tuzieri di rinunità magari non ho fatto un po' di sorella non ho fatto un po' di sorella non lo so, però che è successo che stanno sempre io sono un padale informatico quindi non posso sei un informatico? ah, bene, nel senso sono gli stessi no, non ho spruppato no è lavoro per Interflora se tu usci devo sentire Interflora adesso diciamo Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.